Allora, l'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme gli aspetti fondamentali di come è possibile utilizzare la programmazione concorrente in Java, in particolare utilizzando i thread. Non sto a farvi un trattato di sistemi operativi, lo vedrete l'anno prossimo nel corso di sistemi operativi per l'appunto. La differenza fondamentale che c'è tra un processo, che è quello con cui avete avuto a che fare normalmente fino ad oggi è un thread, è che un processo è un'entità particolarmente pesante e significativa all'interno di un sistema operativo che include sostanzialmente un sacco di risorse, principalmente delle aree di memoria. Quindi quando caricato in memoria un programma viene creato un processo, questo processo avrà un'area di memoria per il codice da eseguire, un'area di memoria per i dati, un'area di memoria per lo stack e avrà a disposizione una serie di risorse a livello di processo che sono ad esempio i descrittori di file, a cui abbiamo accennato la volta scorsa. Il thread che cos'è? Il thread è una unità molto più semplice che è sostanzialmente un flusso di esecuzione. Quindi normalmente quando viene creato un processo, al suo interno viene creato un thread di esecuzione. Noi possiamo creare all'interno di uno stesso processo, quindi all'interno dello stesso programma, più thread di esecuzione, oltre ovviamente a quello principale che viene lanciato e che si chiama main. Quindi quando voi lanciate un'applicazione, avete sempre a disposizione thread main uguale a thread.current thread. Quindi esiste un thread in esecuzione che si chiama main ed è quello che sta eseguendo il vostro codice. Infatti se fate system.out.println main.getname, quello che ottenete è sostanzialmente la stampa di main. Il thread main inizia l'esecuzione dal metodo main della classe che avete specificato. Quindi un thread sostanzialmente che cos'ha? Ha un puntatore alla prossima istruzione da eseguire e un puntatore allo stack per le variabili locali e i parametri. E questi, diciamo in maniera un po' semplificata, questi sono i due elementi fondamentali che contraddistinguono un thread. Inoltre un thread è uno stato perché può essere in esecuzione, può essere sospeso o altro, ma di questo magari parliamo verso la fine della lezione. Se io voglio poter svolgere più attività in maniera concorrente, quello che posso fare è, come dicevo, creare un nuovo thread. Quindi io posso creare un nuovo thread che chiamo concorrente uguale new thread. Il costruttore di thread ha diverse varianti, queste di solito possono accettare un nome. E quando io creo il mio nuovo thread, questo thread è sostanzialmente appena inizializzato, non è attivo. Per attivarlo, quindi chiedere alla virtual machine, la quale poi si appoggerà al sistema operativo e al processore, di eseguirlo, dobbiamo andare a chiamare e metto start. Quindi questo avvia l'esecuzione del thread. Che cosa fa il thread? Il thread inizia a eseguire quello che gli diciamo noi. Infatti il costruttore che io vi ho messo qua, messo così, è poco utile perché non gli ho detto che cosa fare. Quindi sostanzialmente eseguirà un metodo vuoto di default senza fare nulla. Quindi quello che normalmente noi andiamo a specificare quando andiamo a creare un thread è anche un oggetto che implementa l'interfaccia runnable. L'interfaccia runnable è un'interfaccia funzionale che ha un unico metodo che si chiama run void e senza parametri. Quindi l'inizio dell'esecuzione inizia da un metodo senza parametri. Quindi io qui posso andare a specificare, usando una lambda, che cosa deve fare il thread. Ok, quindi System.out.println Nuovo thread Ho dimenticato una virgola E' il contrario Prima l'oggetto runnable e poi il nome Quindi nuovo thread E qui posso fare system.out.println Thread.current thread Punto GetName Quindi Se lo eseguo avrò Il main Che è la stampa che viene fatta inizialmente E poi Queste due Stampe sono fatte all'interno del thread Che si chiama per appunto concorrente Perché gli ho dato io il nome Se non gli do il nome viene assegnato un nome d'ufficio Thread con un numero Automaticamente Dalla classe thread Ovviamente il thread Potrebbe Richiedere Molto tempo per eseguire Non importa Il sistema tendenzialmente Aspetta Se io vi faccio un system.out.println Finito Main System.out Scusate Qui posso mettere un thread Punto Slip Diciamo 4000 Questo vuol dire Prendi il thread corrente E Fallo dormire per Tot Millisecondi Ok Quindi questo Significa Dormi per 4000 Millisecondi Cioè 4 secondi Questo metodo può lanciare un'eccezione Perché Durante Il sonno del thread Potrebbe succedere qualcosa che va A perturbarlo Quindi Metto un try catch In cui Non faccio nulla La condizione del thread Iniziale È Inizialized Però In realtà Thread New Ok Vi faccio vedere Velocemente Lo stato dei thread Quando lo creo È nello stato new Quando faccio start È nello stato runnable All'interno Dello stato runnable Ci sono due stati Che sono Ready Ok Il thread è pronto E running Quindi il thread Sta effettivamente Eseguendo Noi ci siamo fermati qua A un certo punto Quando è terminato Il metodo Run Dell'interfaccia runnable Cioè quello che io ho passato Come oggetto Come metodo Da eseguire Va a finire Interminated Ok Gli altri Per il momento Li lasciamo da parte Quindi New Runnable E terminated Sono i nomi Dei tre stati Quindi Se io mi fermo qua Per 4.000 secondi Cioè 4 secondi Dopodiché Stampo Out Println Finito Con corrente E lancio Il mio programma Vedete Finito Main E finito Addirittura Prima Che iniziasse Il nuovo thread Ok Per cui Ieri All'altro ieri C'è stata una domanda Su Slack Sull'ordine Con cui è possibile Andare a eseguire I metodi Ecco L'unica cosa garantita Per quanto riguarda i thread E che partono Ok Potrebbero non finire mai Potrebbero Non tornare mai in esecuzione Ok E l'ordine assolutamente È impossibile Da Da prevedere Quindi Se avete bisogno di Un ordinamento Esplicito Tra le attività Che devono essere fatte dai thread Ci sono dei modi Di andare a Fermare un thread E Dare spazio A un altro Ok Quindi Il thread Principale È finito Dopodiché Parte il nuovo thread L'applicazione Non è terminata Pur essendo terminato Il metodo main L'applicazione Il programma È ancora in esecuzione Questo perché Perché sostanzialmente La java virtual machine Non termina L'esecuzione Finché Tutti i thread Non hanno finito Allora Domanda Mentre il thread concorrente È in slip Viene eseguito il thread main Allora Sì Se ci fosse qualcosa da fare In realtà Scusatemi Lo rieseguo Un'altra volta Magari l'ordine È diverso Vedete Ecco Adesso arriva a fine concorrente In realtà Come vedete Finito main Viene chiamato Prima ancora Che parta il nuovo thread Quindi Il thread main È già terminato Ok Quando termina il main Il thread Il metodo main Il thread main Finisce Finito il thread main Parte il nuovo thread Che si ferma E Finché non termina Quest'altro thread Il programma Vedete Era ancora in esecuzione Ok Quindi La Java Virtual Machine Finché ci sono dei thread In esecuzione Non termina Esiste una categoria Particolare Di thread Che si chiamano Daemon Che 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 Anche se sono in esecuzione Non Impediscono La chiusura Della Java Virtual Machine Ok Però I thread normali Impediscono la chiusura Della Java Virtual Machine Altra domanda Usarlo così Serve soltanto Per operazioni Che non richiedono Un ordine Esattamente Sì Qui Lancio un qualcosa In realtà Potrei avere un flag Che mi dice Se ho finito Oppure no Oppure Posso andare Effettivamente A sincronizzarmi Domanda Noi abbiamo dovuto Scrivere Questo concorrente Main Concorrente Scusate Punto start Per far partire Il thread Il thread main Ha uno start Implicito No Il thread main Non ha uno start Implicito Perché è la Virtual Machine Che Crea il thread E lo fa partire Quindi Viene fatto Automaticamente Dalla Dalla Virtual Machine Ovviamente Noi Possiamo andare A prendere il nome Possiamo andare A Operare Su questo thread Ma Viene avviato Automaticamente Dalla Virtual Machine Anche perché Senza il thread main Non ci sarebbe Nulla Di eseguito Ok Quindi In qualunque Processo Nel vostro sistema operativo Stiamo parlando Di sistemi operativi Moderni Ogni processo Ha almeno un thread Che è quello principale Anche i vostri programmi C Che avete scritto Negli altri Nei corsi precedenti O i programmi Che scrivete in assembler Quando li avviate Causano La creazione Di un processo Quindi tutta l'area Di memoria Le risorse Eccetera E L'avvio Di un thread Thread Che parte Da quello Che è l'entry point Quindi il metodo main In java La funzione main In C O qualunque sia L'entry point Del programma Che avete scritto In assembler Domanda Se non andiamo a esplicitare Più thread Nell'esecuzione Di programmi Abbiamo un solo thread Sì Sì Salvo un caso particolare Di cui parleremo Nella prossima lezione Se abbiamo Un Un'interfaccia grafica In java Automaticamente Viene creato Un thread Che È in ascolto Per tutti gli eventi Che riguardano L'interfaccia grafica Quindi Noi possiamo avere Un main Che crea Una finestra La creazione Di una finestra Avvia Un thread Implicitamente Quindi non lo facciamo noi Ma viene fatto Dal framework Che sta dietro L'interfaccia grafica E viene creato Un nuovo thread Che sostanzialmente È in ascolto E riceve Tutte le segnalazioni Di quello che avviene Con l'interfaccia grafica Quindi Non so Un click Ridimensionamento La finestra La chiusura della finestra Ecco Questi Vengono gestiti Da un thread Che non è il thread main Ma è un thread separato Ok Questo è il motivo Per cui io vi ho parlato Di thread Prima di parlare Di interfacce grafiche Perché se no Alcune cose Sono difficili Da Da comprendere Come possiamo andare A fare delle operazioni Che richiedono Invece Un minimo Di sincronizzazione Allora Allora Immaginiamo di avere Un Double Array Con dei numeri Quale New Double Di 1000 Pointi Uguale a 0 I minore Di Numeri Punto Lent Più Più Numeri Di E Uguale a At Punto Random Per 100 Quindi Andiamo a riempire Il nostro Array Di Numeri Double Con Valori Casuali Che stanno Tra 0 E 100 Per chi fosse appassionato Di statistica Random È un Metodo Che genera Numeri casuali Che hanno Una distribuzione Uniforme Quindi Nell'intervallo Tra 0 E 1 Qualunque valore Ha Sostanzialmente La stessa probabilità Di essere generato E se voleste generare Una distribuzione Che non è uniforme Ma è ad esempio Una distribuzione Gaussiana Domanda Passo di parametri Ecco no In questo caso Purtroppo no Allora Ci sono delle Alte funzioni Che Cioè Alte librerie Non quelle standard Che permettono Di generare Distribuzioni Specifiche Ma Per la magia Della statistica Il quadrato Di una variabile Aleatoria Con distribuzione Uniforme È distribuito Con una distribuzione Gaussiana Quindi a me Basta fare il quadrato E ottenere Quella che è una distribuzione Gaussiana In realtà Non esattamente Gaussiana Perché comunque Random È limitato Però Se ho Un range Abbastanza ampio Ci si avvicina Ok Curiosità Ma direi A noi va bene Una distribuzione Uniforme A questo punto Io voglio andare A prendere Un pezzo Di questo array Darlo A un Thread In modo che mi calcoli La media E alla fine Voglio andare A mettere Tutto assieme Ok Come posso fare Allora Allora Ve lo scrivo così Alla buona Poi potete pensare Come esercizio Di generalizzarlo Immaginiamo di dividere Il nostro Intervallo In due Parti Ok Quindi Vado a Definire Un thread T1 Uguale New Thread Che Sostanzialmente Mi fa Un Double Sum Uguale a Zero For Int I Uguale a Zero I Minore di Numeri Punto Length Diviso 2 Più più I Sum Più Uguale a Numeri Di Quindi Quindi Questo mi crea Mi calcola La somma Della Prima metà Questo mi calcola Invece T2 La somma Della Seconda metà Quindi I Uguale a Numeri Punto Length Diviso 2 Più 1 I Minore di Numeri Punto Length Quindi Ho queste due Variabili Locali Che vanno A calcolare Il risultato Ovviamente Terminato Questo metodo La variabile Sum Me la perdo Quindi Devo andare A metterla Da qualche parte Ok Quindi Posso creare Un double Chiamo Somme Parziali Uguale New Double Di 2 E qui Sostanzialmente Vado a dire Somme Parziali Di 0 Uguale a sum E Somme parziali Di 1 Uguale a sum E Quando questi due Thread hanno terminato Il thread principale Che cosa fa? Andrà a dire Double Media Uguale a Somme Parziali Di 0 Più Somme parziali Di 1 Diviso Numeri Punto Lent E alla fine Faccio System Out Println Media Uguale Media Non abbiamo Non abbiamo la somma No Ok Va bene Immaginiamo che sia corretto Ok Allora Se io mi fermassi qui Il thread T1 Il thread T2 Non partono Ok Io li ho creati Ma non li ho lanciati Per cui Devo dire T1 Punto start T2 Punto start Il punto è che Se io faccio così E' molto probabile Comunque è possibile Che io vada a utilizzare Somme parziali 0 e 1 Prima che T1 e T2 Abbiano terminato La loro parte Di somma Qui stiamo parlando Di mille valori Ma se ne avessimo Non so Centomila O un milione E' probabile Che il thread main Esegua questa riga Che è evidenziata ora Prima che Entrambi i thread Abbiano terminato Il loro calcolo Ok Quindi Quello che dovevo fare È aspettare Che quei thread Terminino Quindi T1 Punto Join Quindi Aspetta che T1 termini E T2 Punto Join Quindi Aspetto che termini T1 Aspetto che termini T2 E poi Allora Vado a utilizzare I loro risultati Vedete che Entrambi Generano delle eccezioni Perché Perché è possibile Che il thread Venga in qualche modo Interrotto Infatti Lanciano entrambi Un interrupted exception Quindi Se un thread Non termina Per cause naturali Diciamo per vecchiaia Nel senso che È terminato Il suo metodo run Ma perché Perché viene interrotto Per qualche motivo Ecco che Mi viene lanciata Un'eccezione La ricevo io Main Che sto aspettando Che termini Sto aspettando Che termini Normalmente Se viene Viene ucciso Per qualche altro motivo Vengo informato Ignoriamo il problema E vado semplicemente A Aggiungere Una dichiarazione Di throws Al main Ok Così Ignoriamo il problema Domanda Come fanno Questi due thread A utilizzare Sia numeri Che Somme parziali Beh Perché Queste lambda Sono definite All'interno Del main E quindi Hanno accesso A tutte le variabili locali Purché Queste variabili locali Siano Final O Equivalenti A final Ok Numeri Qui Lo definisco E non lo tocco più Somme parziali Anche questo È final Nel senso che Il riferimento Non cambia Cioè Punto Ha un array E quella array È sempre lo stesso I valori Che stanno dentro L'array Non devono essere Limitati Non devono essere Final Domanda Se invece provassi A utilizzare Sum Al di fuori Di uno dei metodi Sì Mi dà errore Perché comunque Sum È definito Dentro questo contesto Ok È definito Dentro quel blocco E quindi Semplicemente Sum Non è definito È come provare A utilizzare Una variabile Definita dentro Un ciclofor All'esterno Del ciclofor Non è visibile Che ciascuno Inizi Su Faccio una Somma Sotto insieme Delle Delle Degli elementi Dell'array Aspetto Li avvio Quindi Li faccio eseguire Aspetto Che entrambi Terminino Dopodiché Vado ad utilizzare Quello che hanno Prodotto Loro Quindi Se Domanda Quindi Il blocco De una lambda Si comporta come un blocco Di codice Limitato da graffe Più o meno Tenete conto Che questo qui Corrisponde Allora Questa è una lambda La lambda Corrisponde a Definire Una Classe interna Anonima Al cui interno Definisco Un metodo Che si chiama Run Il cui corpo È quello che Abbiamo scritto Quindi È un po' Quello è il corpo Di un metodo Per cui Al di fuori Di un metodo Le variabili Non sono visibili Essendo questa Una classe interna Anonima Definita All'interno Di un altro metodo Funzionale Viceversa Nel senso Che questo metodo Vede il contesto Del metodo In cui è definito Domanda Join Blocca L'esecuzione Del main Finché non termina Il trade Su cui è chiamato Esattamente Quindi Si ferma Meglio Il main Il main Il thread main Si ferma Finché T1 Non è terminato Quando è terminato È terminato Quando sostanzialmente Dopo aver eseguito Questa assegnazione In realtà questa Perché questo qua è T1 Termino Il metodo Run Stessa cosa Sull'altro In questo caso Si blocca Finché T2 Non è terminato Quindi Nei vari stati Che abbiamo Intravisto prima A un certo punto Quando il thread main Chiama T1 Punto Join Il thread main Viene messo In uno stato Bloccato E viene Riportato In uno stato Rannable Quando T1 Termina Questo viene Fatto Dalla Java Virtual Machine Che gestisce Tutti questi Aventi Domanda Qual è la differenza Tra synchronized E join Allora Sono utilizzati In due contesti Completamente diversi L'unica cosa Che hanno in comune È che bloccano Possono bloccare Un thread Ok Per il momento Restiamo sulla join Poi andiamo A vedere Come funziona Come funziona Synchronized Nei casi In cui effettivamente È utile Tra l'altro Synchronized È una Dichiarazione Quindi Dice che un metodo È sincronizzato Mentre invece Join È un metodo Quindi lo chiamo Esplicitamente Allora Lancio Per vedere Che abbiamo scritto Tutto correttamente Ecco Vedete A questo punto Ho una media Tra l'altro Poi è finito Con corrente Nel frattempo Il thread Di prima Che si era Addormentato Per 4 secondi È finito Dopo Tutto questo Ok Vogliamo sapere Quanto tempo Ci impiega Questa Questo meccanismo Possiamo fare Un long Start Uguale a System Punto Nanotime Fatemelo scrivere così Chiamiamolo Start Time End Time System Out Printl N Tempo End Time Meno Start Time Domanda Per eliminare L'errore Ho aggiunto Allora C'era un errore Qua su join Ho aggiunto Per l'appunto Un Scusate Torno su Un Trous Interactive Exception Nel senso che Ignora sostanzialmente Questo tipo Di eccezione Ok Vediamo poi Tra poco Come funziona L'interruzione Ma Per cui Questi sono Nano Micro 4 Millisecondi Allora Domanda Utilizzare i thread Far guadagnare tempo Anche se il computer Ospite non ha Hardware sofisticato Ad esempio Multi-core No Se non avete Un hardware Che permetta Di eseguire Più thread Paralleli Ovviamente I thread Non vi fanno guadagnare tempo Nel senso che Vengono eseguiti Non In parallelo Ma vengono eseguiti Uno dopo l'altro Oppure uno Alternato All'altro Quindi Un po' uno Un po' l'altro Con Una strategia Che si chiama Preemptive Normalmente Quasi tutti i sistemi Operativi moderni Usano una strategia Di gestione dei thread Che si chiama Preemptive Che vuol dire Che Segnano Un'unità di tempo Qualche millisecondo Normalmente A ogni thread Terminato Quell'unità di tempo Passano a eseguire Il prossimo thread Questo funziona Non soltanto Per il single core Ma anche per il multi core Perché normalmente Io Se io vado a vedere Il mio pc Ma se voi andate A vedere anche i vostri Avete Attivi Centinaia Se non migliaia di thread E non avete Cento o mille core Ok Per cui I vari core Danno A turno Un po' Di unità di tempo Si chiama Uno slice Ai vari thread Quindi Una volta che un thread Ha usato la sua slice Di tempo Il sistema operativo Passa L'esecuzione A un prossimo thread Se abbiamo più thread Che core È ovvio che I thread Si condividono La risorsa Tempo della CPU O tempo del core Di tanto in tanto Ok Quindi Tenete conto Che Pur avendo centinaia Di thread Attivi Molti di questi Sono bloccati Ok Per cui Avete Per ogni interfaccia grafica Un thread aggiuntivo Che è in attesa Di eventi E quel thread lì È fermo Se non ci fate click Se non fate click Sulla finestra Quel thread lì Non fa nulla Quindi Se io vado a Scusatemi Invece di mille Metto Centomila Facciamo un milione Vedete che Iniziamo già A averci impiegato 9 millisecondi Non vi torno Non vi torno nei conti Ok Io ho moltiplicato Per mille E ci ho impiegato Il doppio del tempo Perché? Perché buona parte Di quel tempo lì Di quei 4 millisecondi In realtà È legato a Creazione dei thread Avvio Attesa Della fine Dei due thread E Invece Una frazione Ridotta Viene utilizzata Effettivamente Per fare il calcolo Tra l'altro Se io rieseguo Questo codice Vedete che Cambia un pochettino Quindi 9,6 Eseguo un'altra volta 7,9 8,4 Ok Perché? Perché io sto andando A misurare il tempo Come facessi partire Un cronometro Nel frattempo Sul mio pc C'è Un certo numero di thread Che sono attivi A raccogliere Quello che c'è sullo schermo Comprimerlo Mandarlo A voi Leggere Quello che Un altro C'è un altro numero di thread Che legge dalla telecamera Quella che state guardando Qui Che riprende me C'è un altro thread Che fa l'elaborazione E Nasconde il background Che è dietro di me E disegna Il logo del poli Quindi Ci sono un sacco di altri thread Che vengono eseguiti Sulla stessa cpu E quindi È ovvio che In alcuni istanti Lavorano un po' di più In alcuni istanti Lavorano un po' di meno Il risultato netto Complessivo È che Non sempre Il tempo di esecuzione È lo stesso Ok Non cambia drammaticamente A meno che non ci sia Qualche processo Molto intenso sotto Ma Vedete che Andiamo da sette e mezzo A nove e mezzo Millisecondi Ok Tanto per curiosità Cosa succede Se io il calcolo Vado a farlo Nel thread main Domanda Lo scheduling dei thread Viene investito Tramite la soluzione Del problema di ottimizzazione Legato ai tempi Di esecuzione Di singoli thread Oppure casuale Allora Non è puramente casuale Normalmente Utilizza una strategia Di tipo round robin Ma non Tendenzialmente Non usa Dei criteri Di ottimizzazione Quindi Non Non ci sono Degli scheduler Particolarmente Intelligenti Ok Ci sono varianti Eccetera Sì Ma Tendenzialmente Gli scheduler Sono molto molto semplici Anche perché Tutto il tempo Che viene sprecato Da uno scheduler A Ottimizzare L'ordinamento È tempo Che viene sottratto All'esecuzione Di thread Veghe proprio E quindi Normalmente Le logiche Che stanno dietro Gli scheduler Sono relativamente Semplici Ok Allora Vi faccio Una somma Qui E poi Vi stampo La media Ok Sum Diviso Numeri Punto Lent Vi calcolo Anche il tempo Di esecuzione In questo caso E quindi In questo caso Singolo Thread Nel caso precedente Era multi thread Allora 8 millisecondi 7 millisecondi Lo rieseguo Perché comunque Ci sono 9 millisecondi 8.9 millisecondi 7.9 8.4 Altra esecuzione 9.3 8.9 Come vedete Avere la soluzione Multi thread Rispetto alla soluzione Single thread Non è che ci abbia Cambiato molto Anzi Tendenzialmente La soluzione Single thread È leggermente Più veloce Di quella Multi thread Ok Quindi A meno che Il vostro problema Sia Chiaramente Inerentemente Parallelo E La sincronizzazione Sia relativamente Facile Non perdete Tempo Ottimizzare Per Soluzioni Parallele Perché A meno che Ci lavoriate Per bene Rischiate Di non guadagnare Nulla In tempi Di esecuzione Ok Dove I thread Invece Sono Molto utili E quando Voi avete Tanti Task Completamente Separati Tra di loro E Invece Di andare A scrivere Un metodo Che viene Chiamato Dopo l'altro Che magari Non sapete Ebbene L'ordine Eccetera Quello Potete fare Lanciare Tanti Task Distinti Ciascuno Nel suo thread Probabilmente Il tempo Di esecuzione Complessivo Non cambierà Di tanto Ma Vi semplificate Molto la vita Perché Voi andate Andate a considerare Ogni Task Quindi Ma se è Un compito Separatamente Dall'altro Quindi Non andate A scrivere Il codice Complesso Che faccia Un po' Uno Un po' L'altro Ma Separate Scrivete Il codice Per risolvere Un problema E Lo lanciate In un thread Separato In questo caso Effettivamente È utile Domanda Può servire Ad esempio Per raccolare Simultaneamente Somma di righe E somma di colonne Di una matrice Sì Ad esempio Se immaginiamo Che le due cose Possano essere Possono interferire In qualche modo Però Ok Tendenzialmente Il mio obiettivo Oggi Non è quello Di spiegarvi Come andare A ottimizzare Del codice Per migliorare Le prestazioni Usando Un approccio Concorrente Ok No Soluzioni Banali Come quella Che avete visto qua Vedete Che non ci cambiano La vita Poi io Per carità Posso aumentare Un po' Il numero Di thread Allora Probabilmente Guadagno qualcosa Per cui Se vi riscrivete Questa cosa Con 4 thread Con 4 thread Invece che 2 Magari qualcosa Migliore La versione multi thread È un po' migliore Rispetto all'altra Però Su attività Su attività Così Diciamo così Semplici Tendenzialmente Il tempo Di Avvio Del thread Creazione Del thread Avvio E Sincronizzazione Quindi in questo caso La join Pure semplice In realtà Sono più complicati Rispetto a Usare Un unico thread Li portano via Un sacco Di tempo Diverso il discorso Se voi avete Delle cose Completamente Separate Volete Gestirle Separatamente Immaginate Di voler Andare a Salvare Un Un file Che magari Richiede Un'attività Di compressione Ecco Mentre Vorreste Continuare A fare Altre Attività Ok Quindi Il salvataglio Del file Può andare In un metodo Che viene Eseguito In un thread Quindi Lo lanciate E ve lo dimenticate Nel frattempo Continuate a fare Altre elaborazioni Nel thread Principale Ad esempio Il vantaggio Quindi Non è Tanto Di prestazioni Ma Piuttosto Di Semplicità Del vostro codice Quindi Voi Lanciate Qualcosa Che Scrivete In maniera Semplice Perché Evitate Di dover Fare Un pezzettino Dell'elaborazione Corrente Poi andare A fare Un pochettino Di compressione Poi tornare Indietro Fare Un altro Pochettino Di elaborazione Corrente Poi Un pochettino Di compressione Invece 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 Di farlo A mano Create Un thread Che gestisce La compressione Il salvataggio E Usate Il thread Principale Per continuare Le vostre Elaborazioni Per cui In questo senso È utile Avere Dei thread Quindi O avete dei problemi Che si prestano E sapete come Utilizzare Una volta Giusto per farvi Notare Un'altra cosa Avete che io Ho il risultato E adesso Ecco che mi appare Il finito Concorrente Quindi Quel thread Lì Era ancora lì Che dormiva E finché Non termina Questo thread Il mio programma Ovviamente È lì Appeso Ok Ho calcolato La mia media Ma Il programma Non termina Perché Ho Il thread Concorrente Ancora lì Bloccato In Sleep Cosa posso fare Per andare Interrompere Un thread Allora Per interrompere Un thread Posso utilizzare Un metodo Che si chiama Interrupt Che sostanzialmente Cosa fa Domanda Differenza tra le medie Sapete che non ci ho fatto caso 6 Allora Immagino che siano Equivalenti Nel senso che le somme Siano equivalenti È possibile Che l'arrotondamento Avendo fatto due somme parziali Poi Risommate Divise È possibile Che in questo caso Le due somme I valori arrotondati Nelle somme parziali Vengano Usati in maniera Diversa È una media Di numeri generati random Sì Sono numeri generati random Ma La generazione è fatta una volta sola E le medie vengono calcolate Dopo aver generato Quindi In questo caso Non c'entra la casualità C'entra piuttosto L'arrotondamento Ok Allora Ricontrolliamo Magari Ho scritto Io ho sbagliato il codice Però io parto Vado da 0 E vado a length mezzi In questo caso Vado da length mezzi Più 1 Quindi quello successivo Fino a length No Ne ho saltato 1 Che è minore di length mezzi E qui length mezzi Scusate Rieseguo Effettivamente Ho saltato un numero Ecco A questo punto Vedete che 1, 2, 2 Fino qua Sono uguali Questo pezzettino qua E questo Non sono identici Ecco In questo caso Si tratta di Errori di arrotondamento Ok Però Stiamo parlando di Dodicesima cifra decimale Attenzione Tutte le volte Che voi avete a che fare Con numeri Flotting point Avete sempre Un arrotondamento Ok A parte A parte alcuni numeri Che Particolarmente fortunati Che si possono rappresentare Esattamente Con la notazione In virgola mobile Gli altri Sono tutti arrotondati E quindi Domanda Se io facessi uguale uguale Tra quei due numeri Cosa otterrei Otterresti false Perché sono effettivamente Diversi E il motivo Per cui Quando Voi scrivete Un assert Equals In JUnit Andando a confrontare Due numeri Flotting point C'è Un ulteriore parametro Che è La tolleranza Cioè Qual è la differenza Minima Accettabile Ok E il motivo Ovviamente È questo Perché Io posso fare Esattamente Gli stessi calcoli Diciamo Simbolicamente Uguali In pratica A un certo punto C'è un troncamento E quindi I valori Sono arrotondati Quindi In base all'ordine Con cui faccio Le operazioni Posso ottenere Dei risultati diversi E anche Il motivo Per cui Quando avete Dei calcoli Molto complessi Molto lunghi Non ha senso Andare a riportare Il risultato Alla quindicesima Cifra decimale Perché Perché Probabilmente Quella cifra Lì È Agli effetti Pratici Un valore Casuale Che dipende Dall'ordine Con cui avete Eseguito Le varie operazioni E quindi Otterreste Valori Diversi Quindi A parte L'errore Che avevo Commesso Prima Saltando Un numero Questa differenza Che vediamo qua È effettivamente Dovuta A Un arrotondamento Diverso Che prima Era un po' Troppo grande Per essere Un arrotondamento Eccomi Scusate Stavo Stavo dicendo Chiamiamo Concorrente Interrupt Che cosa fa Interrupt Allora Interrupt Va Su questo Thread E Se questo Thread È in Attesa Gli lancia Un'eccezione Di tipo Interrupted Exception Quindi Nel caso Del nostro Thread Concorrente Essendo Il thread In attesa Qui Gli lancia Un'interrupted Exception Ok In questo Caso System Out Print LN Viene Interrotto Quindi Rieseguo Il mio Programmo Un'altra Volta Vedete Interrotto Nel senso che Dopo aver stampato L'ultimo Tempo Viene chiamato Interrupted Quindi Quello Viene Interrotto Attenzione Attenzione che Se il thread Non si trova In una situazione Di Attesa L'eccezione Non viene Lanciata Ok Per cui Se invece di essere Qua In un'attività Di slip Fossi in un While True Int I Uguale A 0 I Per Uguale A 127 Allora In attesa Intendo che Il thread È bloccato Quindi c'è Una slip Oppure L'abbiamo visto Prima Il thread È bloccato Su una join Oppure È bloccato Per altri Per altri Motivi Di cui Parliamo Tra un po' Quindi Se il thread È bloccato Quindi c'è uno Di questi metodi Slip Join O altri Ecco In quel caso lì Il metodo Restituisce un'eccezione Se invece sto facendo Quest'operazione qua Qui Non faccio una slip Ma Sono in un ciclo Senza fine Il thread Non viene interrotto Ok Allora Qui interrupted Exception Non ce l'ho Perché ovviamente Non ho più Il Try catch Quindi Ok Vado a commentare Tutto questo Quindi Se sono in questo ciclo Senza fine L'interrupt Non ha nessun risultato Allora Ovviamente questo qua Essendo un ciclo senza fine Non viene mai raggiunto Per cui Vedete che qui Il programma Continua a essere in esecuzione Ok Vedete che Non Qui ho il pulsante di stop Il programma è in esecuzione E Nonostante l'interrupt Non succede nulla Devo io andare Esplicitamente A bloccare il mio thread Il mio programma Per cui Se io ho un ciclo Un thread Che sta facendo Operazioni E non si blocca mai Quel thread Non è interrompibile L'unico modo Di effettivamente Interrompere il thread È di andare Esplicitamente If Thread Punto Interrupted Break Quindi in questo caso Io Thread Vado a vedere Se qualcuno Mi ha interrotto Quindi sul thread Viene settato Un flag Di interrotto A questo punto Verifico se quel flag È settato Se è settato Termino Io Volontariamente L'esecuzione In questo caso Finito con corrente Immediatamente Dopo aver stampato Il tempo Ok In generale Esiste Un metodo Che si chiama Concorrente Punto Stop Ma Questo metodo È deprecato E tendenzialmente Non Dovrebbe essere Utilizzato Perché Perché sostanzialmente Potrebbe lasciare Lo stato Di un thread O degli altri Thread In una condizione Non corretta E quindi Bloccare il sistema Indefinitivamente Per cui Il metodo Stop Che dovrebbe Bloccare Effettivamente Il thread Tendenzialmente Non dovrebbe Essere utilizzato Il metodo Interrupt Però Non mi garantisce La terminazione Di un thread Mi garantisce La terminazione Soltanto Se il thread O è bloccato Oppure Verifica Esplicitamente Se qualcuno Gli ha Chiesto Di interrompersi Domanda Interrupt Nel caso Di thread Infinito Di ciclo Infinito Non faceva nulla Nel caso Di ciclo Infinito No Perché Se Non vado A fare Questa parte Qua Quindi If Interrupted Non succede Nulla Ok Non viene lanciata Un'eccezione O altro L'eccezione Veniva lanciata Nel caso In cui Avessi fatto Uno slip In quel caso Lì Si Sono bloccato Mi interrompono E quindi Lo slip Termina Con un'eccezione Domanda Si può Dall'esterno Mettere in pausa Un thread E poi Riprendere L'esecuzione Tendenzialmente No Nel senso Che Di nuovo C'è un metodo Che si chiama Allora Ve li metto qua Metodi Deprecati Da non usare Concorrente Punto Stop E concorrente Punto Suspend Anche questo Deprecato Per gli stessi motivi Perché Se ci sono dei thread Che aspettano L'un l'altro E se io fermo Un thread O lo sospendo Gli altri thread Potrebbero non Funzionare mai Domanda Quindi Interrupted Allora Il metodo Interrupt Qui Se il thread Destinatario È bloccato Diciamo Lo risveglia Con un'eccezione Se il thread Destinatario Non è bloccato Ma è in esecuzione Sostanzialmente Set a un flag Che può essere testato Con il metodo Interrupted Ok Domanda Perché viene stampato Anche quando dopo Viene dopo il blocco Tra i catch In concorrente Allora Perché io qui faccio Un break Quindi sostanzialmente Esco dal ciclo While E poi proseguo Nel caso precedente Allora Se invece di avere Stampare questo Avessi questo Se sono in slip Arriva L'eccezione Che mi porta A stampare Interrotto E poi Stampo Finito Con corrente Domanda Usando Interrupt Non corriamo Rischio di interrompere Il thread Anche nel caso Ci fosse Qualcosa Dopo lo slip Allora Sì Però Io Io che scrivo Il thread Posso decidere Di mettere Qualcosa Qui dietro Qui dentro Il blocco Tra i catch Oppure qualcosa Dopo Il blocco Tra i catch Quindi Sono io Che decido Come posso Essere interrotto Se fosse Possibile Utilizzare Stop Il risultato Tendenzialmente Sarebbe che Mi interrompono In qualunque caso Quindi Non ho controllo Sulla mia interruzione Invece Con L'interrupt Intercetto L'eccezione Se sono In blocco Oppure Vado Esplicitamente Verificare Interrupted E quindi Io che Scrivo Il thread Ho il controllo Completo Su come Posso Terminare E questa È la ragione Per cui Sia Sospende Che lo Stop Non sono Gestiti Ovviamente Io potrei Implementare La risposta All'interrupt Andando Andando A Sospendere Il thread Fino A Un Un Altro Evento Però È diverso D'avere Una Sospensione D'ufficio Rispetto A dire Accetto Una Segnalazione Che mi Devo Sospendere Mi Sospendo E poi Riprendo Come Dico Io L'idea È Il thread Ha La gestione Generale Di come Può essere Interrotto E come Risponde A queste Interruzioni Ok A questo punto Vi dico I thread Così Non si usano Molto spesso Ok Ve li ho fatti vedere Giusto per darvi Le indicazioni Di base Ma Molto spesso Invece di utilizzare I thread Si utilizzano Quelli che sono I servizi Di esecuzione Quindi Vado a carri Una nuova classe Esempi Esecutori Allora Un Esecutor Service Accetta Vi Riprendo La slide Un Esecutor Service È Un Oggetto Che ha Questi Quattro Metodi Principali Ok Neanche altri Questi sono Quelli Principali A un metodo Submit Che permette Di Passare Un Oggetto Con un metodo Run Da eseguire A un metodo Shutdown Che Sostanzialmente Termina Il servizio Di esecuzione Di nuovo Non è che blocca I thread Di punto in bianco Aspetta che i thread Abbiano finito E poi Chiude Il servizio Shutdown Now Che invece Manda un Interrupt Ai task Che sono Attualmente In esecuzione E Await Termination Che sostanzialmente Dopo Uno Shutdown Si mette In attesa Che il servizio Di esecuzione Sia finito Quindi Tendenzialmente Un esecutor service Può avere Tanti task Che Vengono Eseguiti Esistono Tanti tipi Di servizi Di esecuzione Quelli Principali Sono Definiti Sono Costruibili Tramite Metodi Definiti Dentro La classe Executors Che ha Vari metodi Qui vi ho Ripilogato Quelli principali C'è New Cached Thread Pool New Fixed Thread Pool New Single Thread Executor E New Workstealing Pool Il primo Crea Dei Thread Quindi Ogni volta Che devo Eseguire Qualcosa Crea Un thread A meno che Non sia Già Disponibile E Lo usa Per eseguire Il nuovo Task Terminata L'esecuzione Quel thread Non viene Terminato Ma sostanzialmente Viene messo In attesa E Gli si fa Eseguire Un nuovo Task Quando È Necessario New Fixed Thread Pool Crea Un numero Predefinito Di Thread E Usa Solo Quelli Mentre Il primo Ne Crea Quando È Necessario Questo Usa Solo Quelli Sono Fissi Single Thread Ovviamente È Un Unico Thread Quindi Se Gli Do Tanti Task Da Eseguire Ne Eseguirà Uno Per Volta Quindi Quando È Finito Uno Passa Successivo Work Stealing Pool È Simile Al Fixed Thread Pool L'unica Cosa È Che Sapendo Quanti Sono I Core Disponibili Sulla Macchina Crea Un numero Di Thread Pari A Quello Quindi Se Avete Quattro Core Vi Crea Quattro Thread In Modo Diciamo Così Da Massimizzare Il Parallelismo Reale Fisico Che Avete Sulla Macchina Ok Quindi Che Cosa Faccio Quando Vado A Creare Un Nuovo Executor Service Scusate Ecco Qua Service Ok Chiamiamolo Runner Uguale A Executors Punto New Cached Threadpool Executor Services È da importare E si trova dentro Java Util Concurrent Quindi in questo caso io non devo passare al mio Executor Il task Sesso dell'oggetto Runnable Da Da eseguire Ma Posso tranquillamente Fare Runner Punto Submit E qui Gli passo Il thread A eseguire Quindi Ad esempio Questo qua Di prima Questo famoso Concorrente Che avevamo messo Prima Ok Ve lo metto Tale E quale Così E Punto Viaggola Qui Non qui Ma Punto Viaggola Qua Ok Per cui Man mano Che ho bisogno Di eseguire I task Passo Con questo Submit Dei Metodi Ok Quindi Se vado a eseguire Questo Vedete Pull1 3d1 Perché Assegna lui Un nome Al 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 Thread E poi Mi dice Finito Concorrente Se lo chiamo Tante volte Ragionevolmente Lui Creerà Nuovi Thread Man mano Che ce n'è Bisogno Esiste Anche Un altro Modo Di Utilizzare Un Executor Service Utilizzando Quello Che Si Chiama Un Non Un Rannable Un oggetto Rannable Ma bensì Un oggetto Callable Ovvero È Un'interfaccia Simile a Rannable Dove Però Il Il Metodo Restituisce Un valore Ok Per cui Vi riscrivo L'esercizio Di prima Quello Del Calcolo Parallelo Usando Un Callable Allora Domanda Quindi In questo Caso Runner Inizializza Il Thread E lo Avviene Automatico Allora Sì Runner Inizialmente Non ha nessun Thread Al primo Submit Crea Un Thread E Gli passa Questo Metodo Da eseguire Terminato Il Thread Non viene Terminato Terminato Questo Metodo Il Thread Viene Mantenuto Attivo E Viene Riutilizzato Per il Prossimo Per il prossimo Task Da eseguire L'altro Modo Vi dicevo È quello Di utilizzare Non Un Runnable Ma Bensì Un Collable Un Collable Questa Volta È un Metodo Che Di Nuovo Non Ha Parametri Però Restituisce Un Valore Per cui Rispetto al Caso Di Prima Dovevamo Double Sum Ecc Qui Posso Fare Return Di Sum Quindi L'idea È che Invece Del Runnable Il Collable È un Qualcosa Che produce Un Certo Risultato E può Essere Un Risultato Di Qualunque Tipo In Questo Caso È un Oggetto Double Ma Potremmo Restituire Una Mappa O Un Oggetto Complicato A Piacere Ok Quindi Ve ne Faccio Un Altro In Questo Caso Parte Da Non Da Zero Numeri Length Su Due Ed E Minore Di Numeri Length Ok E Return Sum Come Facciamo Utilizzare Questo Risultato Il Il Metodo Submit Quando Gli Passa Un Callable Restituisce Un Oggetto Di Tipo Future Double S1 Dove Future Deve Deve Essere Importato Sempre Da Java Udil Concurrent S2 S2 Future Assomiglia Vagamente A Optional Nel senso che È un oggetto che Incapsula Un valore Il valore In questo caso Un valore di tipo Double Io qui posso andare a scrivere Double Media Uguale a S1 Punto Get Più S2 Punto Get Diviso Numeri Punto Length Ok E poi Come avevamo scritto prima Andare a stampare La media E anche In questo caso possiamo mettere il tempo Visto che l'abbiamo fatto anche l'altra volta Quindi vede creo Lancio questi due Task Di tipo Callable Questi task Mi restituiscono un double E il double E il double viene incapsulato in questi oggetti Tipo future Gli oggetti future Hanno questo metodo Get Che ha un comportamento Molto interessante E Un metodo che si blocca Finché Il callable A cui Fa riferimento Non ha prodotto risultato Quindi Finché Questo Codice Non è terminato E non mi ha restituito Il valore Con questo return L'oggetto Future S2 Blocca L'esecuzione Del metodo Get Nel momento in cui L'oggetto Callable Ha terminato l'esecuzione E ha prodotto un risultato Allora Il metodo S2 Mi dà un risultato Ovviamente Se sono dei metodi Che si bloccano Possono generarmi un'eccezione Per cui entrambi Vedete Lanciano Un Execution exception Quindi se durante l'esecuzione Dell'oggetto Callable C'è stato un qualche problema Mi lanciano un'eccezione Non è un interrupted exception Perché I casi qui Potrebbero essere Più Più ampi Però Di nuovo È un'eccezione Che Se volete È legata A un interrupted exception E quindi faccio Add throws Così Ignoro Il problema Quindi cosa succede? Crea un callable Che mi restituisce Un oggetto Future L'oggetto Future Non contiene nulla Finché questo metodo Non è terminato Stessa cosa Sull'altro Il thread main Che esegue Quest'istruzione Chiama S1.get Se nel frattempo Il primo Task è terminato S1.get Mi restituisce Il valore restituito Da questo Altrimenti Si blocca E quindi Il thread main Viene bloccato È un po' come Il join di prima La differenza È che Quando si sblocca Questo metodo Get Mi restituisce Il risultato Calcolato Da questo Task Per S2 Stesso discorso Quindi In questo caso Eseguo E ottengo Un 7 Millisecondi E 506 Domanda Questo è legato Al concetto Di lock Su monitor Degli oggetti Sì L'implementazione Utilizza Il lock Sui monitor Però qui Noi non lo vediamo Nel senso che Semplicemente Quello che osserviamo È che Quel metodo D Blocca L'esecuzione Del metodo Principale Quindi Del thread Principale Il main Finché Quel task Non ha terminato Quindi Vedete che io Posso sottomettere Al mio Esecutor Service Tanti task Quanti voglio Quando questi Non è terminato Io ho il mio Future E lo posso Utilizzare Allora Domanda Quindi Non ci interessa Se bloccare Il thread Main Sblocca Altri Thread Ci importa Solo che Il task Venga completato E che ci Torni Il risultato Esattamente Quindi L'idea Qui è Io ho Dei task Che devono Calcolare Un risultato Nel momento In cui Ho bisogno Del risultato Chiamo Il metodo Get Se il risultato C'è Bene Ce l'ho E lo uso Altrimenti Il thread Viene bloccato Finché Il risultato Non è disponibile Quando il risultato È disponibile Il thread Viene sbloccato E va avanti Domanda Perché Il main Resta in esecuzione Allora Attenzione Il quadratino rosso Non dice che Il main È in esecuzione Il quadratino rosso Mi dice che L'applicazione È ancora In funzione Quindi Vuol dire Che esiste Almeno Un Task Un Scusate Un Un thread Ancora Attivo Quindi Adesso Ci arriviamo Se io lancio Questo Vedete che Mi calcola La media Mi dice Finito Con corrente Ma Il programma Non è terminato Perché Perché Dentro questo Executor service Il nostro runner Ci sono dei thread Che sono ancora attivi Adesso Sono lì In attesa Che qualcuno Gli passi Tramite submit Qualcosa da eseguire Quindi Finché io non chiudo Il mio Executor service Questo è attivo E blocca La mia applicazione Quindi A questo punto Se io voglio Effettivamente Qui Chiudere L'esecuzione Posso dire Runner Punto Shutdown Questo cosa fa Aspetta che tutti i thread Tutti i task Siano terminati Una volta che i task Sono terminati Termina anche i thread E quindi permette Di Chiudere L'applicazione A questo punto Lancio Vedete aspettiamo 4 millisecondi Finito con corrente Ecco a questo punto Avendo fatto anche Lo shutdown Dell'executor service Il programma Termina Tranquillamente Se io ho un Executor service Ancora Attivo Il programma Non termina Vale il discorso Di prima Finché c'è almeno Un thread attivo Che non sia Di tipo Daemon Il programma Non termina Attenzione Che se io tolgo Questo Ok Li ho terminati Prima Potenzialmente Quei thread Quelle applicazioni Restano lì Ancora appese Per un po' Quindi L'idea è Quando voglio Chiudere il mio programma Devo terminare Il thread Devo terminare Tutti i thread Che ho in sospeso Ora Come vedete Scrivere Il codice In questo modo È decisamente Più semplice Rispetto a Quello che abbiamo Visto prima Dove Devo andare A crearmi Un array In cui metto Risultati parziali Questi devo andare A mettere Il risultato Lì dentro Poi devo fare Un join Poi devo andare A prendere Risultati parziali Mentre invece Qui Ho il mio Future La sincronizzazione Non la vedo Nel senso che Non devo fare Un join esplicito Eseguo il mio programma Nel momento in cui Ho bisogno del risultato Uso il metodo Get Del future Se c'è Va avanti Se no Sospeso Ok Quindi La raccomandazione Se voi avete Di task Di eseguire Così in parallelo In maniera Separata Utilizzate sicuramente Gli esecuto service Sono più semplici E non dovete andare A preoccuparvi Di fare dei join O altro Ok Questo è il motivo Per cui Sono stati introdotti Questi Questi servizi Perché sono decisamente Più semplici Tra l'altro qui Non devo creare Esplicitamente i thread Non devo avviarli L'esecutor service Tra l'altro Riutilizza i thread La creazione di un thread È un qualcosa di Costoso Non dovendoli creare Ricreare ogni volta Questo è Molto più efficiente Domanda Lo shutdown Può aspettare Che termino Allora Lo shutdown Aspetta Che terminino I thread Sì Quindi Lo shutdown Dice Termina I task Che sono Attualmente attivi Dopodiché Chiudi Cioè Termina I thread Shutdown Now Che cosa fa Termina I thread Mandandogli Un interrupt Quindi Vedete che Il nostro Metodo di prima È terminato Con finito Con corrente Se io invece Qui Vado a fare Un Run Punto Shut Shut Down Now Questo Forza La terminazione Forza come prima Nel senso che Lancia Un Un Interrupt Vedete In questo caso È stato interrotto Perché Lo shutdown Now Chiama Interrupt Su tutti I thread Che sono ancora In esecuzione È ovvio che Se i thread Non vanno Non sono Bloccati Oppure Ignorano Il flag Interrupted Shutdown E shutdown Now Sono equivalenti Ok Quindi L'idea è Quando andate a scrivere Dei thread Dovete Scriverli In modo che Rispondano In qualche modo Agli Interrupt Domanda Per S2 Internamente Potrei avere più Thread Allora S2 Potrebbe La sua volta Creare un altro Esecutor Thread E passare E creare Dei thread Al suo interno Questo sì L'idea è però che S2 È unico Ok Quello che posso fare È un'altra cosa Però Sono 10 In quarto Facciamo 10 15 minuti Di pausa E poi Riprendiamo Con qualche esempio Un po' più Un po' più Complicato Ok E torniamo A L'utilizzo Di più Thread Che eseguono Lo stesso Codice Codice Allora Che cosa dobbiamo fare Per utilizzare In maniera Un po' più scalabile Questi Questo concetto Di Esecutor service Di future E di callable In modo da suddividere Il nostro famoso Calcolo della media In Più Segmenti Allora Andiamo a definire Qui Una classe Che chiamiamo Media Parziale Che ha Sostanzialmente Un Double Array Numeri Un Int Inizio Un Int Fine E un Costruttore Media Parziale Che ha Sostanzialmente Questi parametri Is Punto Numeri Uguale a numeri Dis Punto Inizio Uguale Inizio Dis Punto Fine Uguale Fine E poi Qui Diciamo che questo Implements Collable Di Double Collable Si trova In java Util Con Current E prevede Di avere Questo Metodo Double Call Quindi Double Sum For Int Int I Uguale Inizio I Minore Di Fine Più Più Sum Più Uguale A Numeri I Return Sum E vedete che ho riscritto sostanzialmente Quello che facevano prima qui Quei due collable specifici Usando Però Un inizio e una fine Predefiniti Quindi a questo punto Prima di fare lo shutdown Diciamo che Definiamo che il numero di Elementi Il numero di Sezioni in cui io voglio andare a dividere Il mio array Diciamo che è 4 Quindi Vado a mettere Vado a dichiarare un Future Di Double Array Parziali Uguale New Future Double Goal Ok, qui mi dice, a questo punto, for int t uguale 0, i minore di n, più più i, run.submit, new, questo oggetto qua, media parziale, qui passo numeri, ipernumeri.lens su n, virgola, i più 1 per numeri, puntolenze, diviso n. Ok, quindi passo al costruttore di questo oggetto, l'array, che lui memorizza, il punto di partenza, che ovviamente per i uguale a 0 varrà 0, per i uguale a n-1 varrà numeri.lens, e vado a mettere parziali, i uguale il future che mi viene restituito da questo submit. Quindi vado a creare questo callable, che mi calcola la somma di un frammento del nostro, gli elementi del nostro array, e questo verrà messo in un future che sta dentro questo array di parziali. Una volta che ho fatto questo, media, scusate, double, media in realtà l'abbiamo già definito sopra, scusate, e non devo ridefinirlo, media uguale a 0.0, for future double f in parziali, media più uguale a f.get, media diviso uguale a numeri.lens. Stampiamo la media anche in questo caso. In questo ciclo andrò a chiamare il get sui vari future in ordine, e mi blocco finché quel future lì non è disponibile, ovvero quando il relativo callable non ha finito il calcolo, li sommo e poi divido per la lunghezza. Vedete, in questo caso di nuovo il valore è leggermente diverso, perché 2,3 e qui ho 8, di nuovo perché in un caso ho fatto la somma di 4 nomi, in un altro caso ho fatto la somma di 4, 2 numeri. Se volete possiamo andare a vedere qua anche e il tempo. Quindi, quindi va a vedere qua anche in un caso di 5, 1,2, quindi va a vedere qua anche in questo caso è un caso di 6, n uguale a n, qui con n uguale a 4 abbiamo 14 millisecondi invece dei 9 precedenti. Se io metto n uguale a 8 ho 19 millisecondi, vedete che in realtà più aumento il numero di thread più tempo ci impiego. Domanda, quindi la media può riportare dei risultati sbagliati nel caso in cui un oggetto collabo non è ancora pronto. No, l'esecuzione di questo loop si ferma nel momento in cui l'oggetto non è ancora pronto. Se è pronto mi restituisce il risultato, se non è pronto questo metodo get si blocca finché il dato non è stato calcolato. Quindi l'idea è che il get mi dà un risultato soltanto quando è pronto. Finché non è pronto il thread principale, quello che sta eseguendo il codice che vediamo adesso, si blocca lì, viene bloccato. Quindi questo metodo qui verrà eseguito da 4, 8 thread, ovviamente nel contesto di oggetti diversi che hanno un attributo inizio e fine diversi. Quindi il metodo sarà esattamente lo stesso, ma andrà a operare su intervalli diversi del nostro array. Se volete questo modo di procedere è un modo in modalità pool, nel senso che il thread principale main aspetta che gli arrivi tutti i pezzettini, li chiama con questo metodo get, quando ci sono passa al prossimo, li mette tutti assieme e calcola la media. Quindi vedete che è possibile che tanti thread eseguano esattamente lo stesso codice. Se io gli do dei parametri leggermente diversi, ciascuno esegue il codice in maniera indipendente su elementi diversi in questo caso o su dati diversi in funzione del tipo di parametri che io vado a fornire a ciascuno di questi thread. Piccola annotazione che non c'entra niente con i thread, ma c'entra con le lambda. Invece di andare a costruire una classe come questa, separata, io potrei anche andare a fare un static collable di double, media parziale, numero inizio fine, return una lambda, fatta così. Quindi fare new di media parziale o chiamare questo metodo media parziale mi dà due oggetti che sono sostanzialmente equivalenti. perché? Perché questa lambda, quella che vediamo qui, usa i parametri numero inizio e fine nella sua closure, ricordate che la closure è l'insieme dei parametri e variabili locali che sono utilizzati all'interno di un'espressione lambda e quindi quei parametri vanno a far parte dell'oggetto che viene creato con questa lambda e quindi quei valori restano come fossero degli attributi di questo oggetto, senza che io li debba dichiarare esplicitamente e senza che io debba passarli come parametri del costruttore. è equivalente a quindi tornando al nostro caso di prima posso riscrivere quanto ho fatto prima non con un new ma con un semplice media parziale numeri eccetera. e quindi se non ho sbagliato niente dovremmo avere esattamente lo stesso risultato. vi faccio notare che queste due medie questa e questa hanno esattamente lo stesso valore mentre invece questa e questa sono leggermente diverse perché? perché sostanzialmente l'arrotondamento dei numeri floating point non è casuale ok? è un qualcosa di deterministico. quindi se io faccio se divido in due parti il mio array e calcolo il valore il risultato è esattamente questo se invece di dividerlo in due parti lo divido in otto il risultato è esattamente questo e quindi l'arrotondamento dividendo in due o dividendo in otto è diverso ma se io divido in otto l'arrotondamento è sempre quello per tornare a caso di prima sugli arrotondamenti di numeri floating point ora questo è questa semplicità di scrittura che vedete qui è qui in nove righe io ho scritto quello che qui ho scritto in diciotto righe ok? quindi esattamente il doppio delle righe per scrivere questa classe oppure per scrivere questo metodo che mi restituisce un oggetto tramite una lambda e il risultato è esattamente identico quindi in questo caso qui la closure della lambda include i parametri come se fossero dei degli attributi diciamo così impliciti ok? quindi attenzione l'uso delle lambda ci permette di scrivere del codice estremamente più compatto questo è un esempio ok? e il risultato ovviamente è lo stesso infatti la somma è esattamente quella a questo punto vorrei provare a scrivere lo stesso codice ma invece di farlo in modalità pool dove c'è il main che va a chiedere ai vari ai vari thread ai vari task di dargli risultato con quel metodo get the future vorrei provare a scrivere il tutto in maniera diversa vorrei invece andare a scrivere dei task che appena hanno finito vanno a scrivere loro direttamente un pezzo di risultato ok? ve lo faccio in un in un altro in un'altra classe così evitiamo troppi pasticci quindi new class esempi sincronizzazione adesso vediamo perché è necessaria la sincronizzazione in questo caso allora parto di qua recupero sostanzialmente il nostro executor service che è tanto comodo per lanciare i thread quindi non dobbiamo crearli e avviarli ma semplicemente facciamo un submit e funziona tutto andiamo a prendere i nostri numeri come prima ok? e poi andiamo a creare un metodo statico con degli attributi statici che possiamo andare a utilizzare quindi diciamo che abbiamo il nostro static double somma che inizialmente è uguale a 0.0 abbiamo uno static int elementi che è uguale anzi numero elementi uguale a 0 e poi abbiamo uno static void aggiungi parziale double somma parziale virgola int n vado a mettere anche tutto fuori così è più semplice e vado a dire somma più uguale somma parziale e numero elementi più uguale a n if numero elementi è uguale a numeri punto length system out print ln media somma diviso numero elementi quindi l'idea è questo metodo viene chiamato dai vari task che andremo a creare e man mano appena il task finisce invece di andare a restituire un valore che verrà poi messo in un future chiama questo metodo che quindi aggiunge la somma aggiunge il numero di elementi su cui finora è stata raccolata la somma e quando il numero di elementi raggiunge la lunghezza allora stampa la media ok quindi questa è l'idea possiamo andare a prendere lo stesso approccio di prima quindi andare a prendere il nostro n e qui e qui andare a prendere e questa media parziale che adesso per il momento è un callable ma diventerà un runable perché non deve restituire nessun valore allora il calcolo della media parziale è non più un callable ma semplicemente un runable e alla fine invece di fare return sum qui andrà a fare una chiamata del metodo aggiungi parziale quindi qui farà aggiungi aggiungi parziale sum e fine meno inizio quindi ogni pezzettino andrà a fare la somma da inizio a fine appena l'ha fatta chiama questo metodo aggiungi parziale passandogli la somma parziale e il numero di elementi che ha trattato questo qui aggiunge la somma parziale al totale incrementa il numero di elementi e quando li ha calcolati tutti stampa la media quindi non ho più un array di parziali perché sostanzialmente ogni runner scusate ogni task che io passo al runner andrà per conto suo a comunicare a questo metodo aggiungi parziale il risultato ok e andiamo a calcolare anche la somma in maniera semplice semplice scusate la media in maniera semplice ok non in paniera multi-threaded ma in maniera semplice ok invece di 8 mettiamo 16 e proviamo a eseguire i risultati sono uguali scusate sto provando a vedere se riusciamo ad ottenere un risultato eccolo qua sono andati un po' tentativi perché come dicevo più volte i thread non sono deterministici quindi spesso si comportano in maniera simile ma non sempre eccoci qua vedete che in questo caso abbiamo due valori che sono molto diversi quindi ho 50 qui e questa è la media calcolata precisa ok con un unico thread qua su in alto prima ancora di far partire tutto il meccanismo dei 16 thread paralleli e questa qui è la media calcolata dai 16 thread paralleli 16 task paralleli quindi ci è andata bene diciamo 5 o 6 volte settima l'ottava quello che è abbiamo un risultato che non è quello giusto perché avete qualche idea che è Non sono sincronizzati. Allora, sì, questa è, diciamo, se volete, la causa, l'errore. La motivazione per cui i risultati sono diversi è che due o più thread contemporaneamente sono entrati in questo codice qua, in questo metodo aggiungiparziale. E contemporaneamente hanno fatto somma più uguale, numero elementi più uguale. Non so quale dei due hanno eseguito contemporaneamente, però sostanzialmente il più uguale vuol dire che il thread prende il valore attuale, gli somma il nuovo e poi scrive il risultato. Noi lo scriviamo con una riga sola, ma in realtà c'è lettura della variabile, somma, quindi calcola il risultato, messo in un registro temporaneo e poi da quel registro salvato di nuovo sulla memoria di partenza. Se due e tre lo fanno contemporaneamente, tutte e due leggono lo stesso valore di partenza, tutte e due sommano, il risultato qual è? È che tutte e due vanno a scrivere lo stesso valore, perché essendo tutti i thread uguali è ovvio che, insomma, circa ha lo stesso valore, e quindi mi sono perso uno degli aggiornamenti. Ok? Quindi un aggiornamento è fantasma, nel senso che è scomparso. Quindi il primo thread che ha scritto il risultato è stato sovrascritto dall'altro, che è partito dallo stesso valore di partenza, e quindi il risultato è che la somma, ad esempio, o il numero di elementi, sono diversi. Qui, essendo la media più bassa, è probabile che si siano sovrapposti nella somma, quindi io abbia perso uno dei pezzi della somma. Ok? Quindi, per un metodo così piccolo, avete visto che ho dovuto rieseguire il programma tante volte, finché, per caso, due thread si sono andati. Di cosa? Hanno fatto quella che si chiama una race. Questo è il tipico esempio di race condition. Se due thread arrivano allo stesso punto contemporaneamente, due prendono lo stesso valore, lo aggiornano parallelamente, e quindi uno sovrascrive l'altro. Come faccio a evitare questo problema? Quindi a evitare le race condition? Devo garantire che quello che sta qui, quello che sta dentro questo metodo, sia sostanzialmente atomico, nel senso che viene eseguito tutto in maniera sostanzialmente isolata dagli altri. e quindi lo posso fare, l'avete visto probabilmente nella lezione registrata, con un synchronized, scusate, va prima del tipo di ritorno. Quindi synchronized, void, aggiungi parziale. Quindi a questo punto, se io rieseguo, vedete, ottengo sempre, qualche piccolo errore di arrotondamento ci sta, ma l'abbiamo già detto prima, ma se io eseguo, vedete, sto continuando a eseguire più volte, vedete che non ho più il caso di prima, ok? Attenzione, il fatto che non l'abbia visto, non vuol dire che non si può verificare, ve lo dico io, che possiamo andare avanti all'infinito, fino alla lezione di giovedì, senza fermarci, e sicuramente vero sempre i numeri uguali, perché? Perché ho messo io esplicitamente questo synchronized, e quindi, quando un thread entra dentro questo metodo, sostanzialmente, blocca tutti gli altri dall'entrata. Quindi, mentre un thread sta eseguendo quel metodo, gli altri sono bloccati all'ingresso. Appena il thread libera, cioè termina l'esecuzione di quel metodo, allora può entrare il prossimo. L'idea è che lì dentro entra un unico thread per volta. E questo mi garantisce che il risultato venga calcolato correttamente. domanda, qui il lock è sul monitor di quale oggetto? Essendo metodi statici, il lock è su l'oggetto class esempi sincronizzazione. Domanda, cosa succede se due thread usano lo stesso metodo contemporaneamente? Cosa succede? Allora, sostanzialmente succede che ho due thread che fanno queste operazioni. Allora, ve le provo a scrivere qua. Così. Allora, diciamo che è un thread che si chiama Kevin. e un altro thread che si chiama Stewart. Immaginiamo che i due thread vadano esattamente di pari passo. E quindi Kevin legge somma, il valore iniziale. Stewart contemporaneamente legge somma. Immaginiamo che sia il primo all'inizio, quindi somma inizialmente vale zero e quindi tutti e due leggono il valore zero. A questo punto Kevin incrementa sempre somma, quindi fa quello che ha letto più il valore del parametro somma parziale e Stewart anche lui incrementa. Quindi immaginiamo che la somma inizialmente sia zero ok? Per semplicità. Incrementa di quanto? Incrementa di diciamo dieci. Quindi zero più dieci fa dieci. Quindi tutti e due i thread si sono calcolati come risultato dell'incremento il valore dieci. A questo punto scrive somma e lo scrive di nuovo nell'area di memoria in cui c'è c'è questo valore e anche questo scrive somma. Tutte e due scrivono dieci. Risultato somma uguale a dieci. che cosa avrei dovuto avere? Avrei dovuto avere che Kevin somma dieci Stewart somma dieci il risultato finale somma uguale a venti. Quindi sostanzialmente entrando in gara i due sugli stessi attività uno sostanzialmente ha sovrascritto l'altro. Quindi partendo dallo stesso valore hanno sommato tutti e due dieci hanno scritto tutti e due il risultato più dieci. In realtà avrebbero dovuto scrivere uno sommare dieci scrivere il risultato poi l'altro sommare dieci e scrivere il risultato e quindi ottenere un incremento di venti invece che di dieci. Con il synchronized cosa succede? Succede che quando ve lo riscrivo qua sotto Kevin entra nel metodo a questo punto Stuart bloccato. A questo punto Kevin fa queste sue operazioni questo è con synchronized lui è in attesa nel senso che è bloccato non fa nulla a questo punto esce nel momento in cui Kevin esce Stuart viene sbloccato e quindi tocca a lui andare sostanzialmente a fare queste operazioni qua leggere scrivere e sommare a questo punto non legge più zero ma legge il risultato salvato da prima quindi andrà a leggere dieci incrementa di dieci e scrivere la somma che a questo punto è un 20 quindi il caso che ho qua si chiama esattamente race condition ovvero la condizione in cui a seconda di quanto velocemente i due tre due io ho fatto l'esempio con due ma ovviamente qui ne abbiamo 16 quindi immaginate le possibilità che ci sono quando ho più thread che eseguono lo stesso codice e accedono alle stesse variabili si chiama race condition la condizione in cui il risultato finale dipende dalla velocità con cui i thread entrano escono o eseguono le operazioni domanda ma in questo modo non si perde la natura del thread perché un thread in questo caso viene bloccato e finché uno non esce e quindi rilascia il lock sul metodo l'altro non può andare a fare nulla quindi sì è vero torno un attimo qua il codice che c'è qui non è più parallelo è serializzato ok il synchronize sostanzialmente mi dice che i thread non eseguono questo codice in parallelo ma lo eseguono in maniera serializzata quindi uno per volta uno dopo l'altro quindi su quel metodo lì perdo il parallelismo ma prima di arrivare a quel metodo lì ho questo quella somma lì viene eseguita in parallelo il parallelismo lo perdo soltanto nell'ultimo pezzettino finale in cui devo andare a mettere assieme le cose quindi questo aggiungi parziale ora è chiaro che se io avessi messo questo codice qui dentro un metodo statico e quello fosse serializzato è vero perdo completamente il parallelismo ma questo blocco di codice qua non è sincronizzato e quindi viene eseguito tranquillamente in parallelo quindi quel blocco lì viene eseguito da 16 thread in parallelo senza nessun problema perché ognuno utilizza una variabile sum che è specifica del thread e ciascuno accede a una sezione diversa tra l'altro accede in sola lettura a una sezione diversa dell'array numeri senza particolari problemi quindi l'idea è che io devo andare a serializzare quindi dichiarare come synchronized soltanto dei frammenti possibilmente piccoli di codice in cui posso avere delle race conditions dove non ho race condition non ho ragione per andare a indicare che il metodo è synchronized e quindi posso tranquillamente lasciare il massimo libertà e quindi massimizzare la paralizzazione ok non sto a entrare nei dettagli in questo momento di del monitor che sta dietro un oggetto ok quello è un meccanismo di basso livello che vi ho messo nelle slide vi ho spiegato nella lezione ma tutto sommato viene utilizzato soltanto in casi particolari diciamo che buona parte dei problemi di sincronizzazione tra i thread vengono risolti così ok mettendo dichiarando un metodo synchronized in alcuni casi molto particolari è possibile che più thread debbano sincronizzarsi in maniera più insomma complessa ecco in quel caso possiamo utilizzare altri altri metodi ma non così non così frequentemente ok in ogni caso la sincronizzazione è necessaria nel momento in cui i thread attivamente vanno a leggere vanno scusate vanno a scrivere qualcosa finché ho la lettura parallela non succede nulla il problema sia la scrittura quindi in questo caso dove più thread vanno a scrivere sullo stesso dato l'esempio che avevamo visto prima dove i thread non scrivono ma c'è producono risultato e quello risultato viene poi combinato usando dei future in questo caso io non ho nessun rischio di di race condition perché perché il thread che va a fare la get è uno solo e prende i dati man mano che sono disponibili ok quindi dipende un po' da come voglio fare è ovvio che qui in questo caso se il primo thread è quello più lento non inizio a calcolare la media affinché il primo non è finito ok nell'altro caso appena un thread ha finito aggiorna il risultato e quindi se volete è un po' più efficiente però è anche più rischioso perché ovviamente ho il rischio di un race condition domanda esiste un modo per fare debugging sui thread o per intercettare le race allora ci sono alcuni metodi formali che permettono di andare a valutare se teoricamente può esistere una race condition però funzionano su casi molto ben definiti altrimenti l'unico modo per identificare una race condition è andare a osservare il codice e quindi fare una revisione guardo il codice vedo se ci sono metodi chiamati da più thread che vanno in scrittura ecco in quel caso potenzialmente ha una race condition quindi devo andare io a identificarla non posso neanche eseguire dei test ok perché come avete visto prima io ho dovuto eseguire 5 6 7 volte lo stesso codice prima di farmi di ritrovarmi il risultato quindi quello è un duplice problema uno perché scrivo un test va bene e quindi non mi accorgo di nulla due perché magari una volta che eseguo il test e sono in presenza di una race condition ho un test che fallisce rieseguo il test un attimo dopo e il test passa questi si chiamano test flaky ovvero che sono indefiniti altrimenti non ci sono diciamo non è possibile andare a fare un debugger perché ovviamente non riesco a debuggare l'ordine di esecuzione ok quindi in generale la programmazione concorrente è complicata ok motivo per cui in generale se avete bisogno di cose semplici utilizzate executor service e eventualmente di future in questo caso se ogni thread è separato e lavora sul suo pezzo di dato non rischiate nulla se avete invece tanti thread che lavorano sui stessi dati ecco lì è pericoloso domanda cosa succede facciamo una sincronizzazione sul metodo statico noi abbiamo fatto una sincronizzazione sul metodo statico vuol dire che chiunque chiama questo metodo sostanzialmente viene allora esiste una differenza tra fare una sincronize sul metodo statico oppure no allora sì normalmente quando io ho un metodo sincronizzato quel metodo è sincronizzato a livello di oggetto quindi se io ho il metodo di un oggetto un thread per volta eseguirà quel metodo su quello particolare oggetto quindi se io ho due oggetti distinti della stessa classe entrambi con un metodo sincronizzato è possibile che due thread contemporaneamente eseggano lo stesso metodo ma su due oggetti distinti quindi la sincronizzazione funziona a livello di oggetto prima si parlava del monitor ecco il monitor che viene gestito dalla sincronizzazione è a livello di oggetto che possiede il metodo in questo caso c'è un monitor che è legato non al singolo oggetto ma alla classe il lock è sul monitor dell'oggetto sì non è sul metodo ma è sull'oggetto quindi se io ho tanti metodi sincronizzati uno solo per volta sullo stesso oggetto solo uno per volta viene eseguito esiste anche una variante di sincronizzazione che è quella di andare a specificare su quale oggetto voglio sincronizzarmi cioè di quale oggetto voglio andare a utilizzare il monitor ok però che è un passo ulteriore domanda quelli non sincronizzati possono essere seguiti sì se un metodo non è sincronizzato non ci sono vincoli nel senso che si entra senza problemi per cui per dire su una classe potrei avere metodi che scrivono che aggiornano gli attributi sincronizzati e invece i metodi che semplicemente leggono gli attributi non sincronizzati in questo modo limito la serializzazione soltanto quando devo andare a scrivere dei dati e invece lascio il parallelismo quando i dati li devo leggere ci sono diverse strategie però ripeto questo è una prima introduzione alla programmazione concorrente vi può essere utile vi ho dato gli strumenti di base se dovete andare a fare programmazione concorrente ovviamente non vi basta questo ma dovete studiare qualcosa in più e soprattutto fare molta attenzione a come gestite la sincronizzazione se avete potenziali race condition però la programmazione concorrente viene utilizzata ampiamente più per semplificare che per migliorare le prestazioni nel senso che suddivido il mio programma in tanti task e ogni task lo assegno a un thread separato e quindi a quel punto ognuno indipendente domanda all'esame sarà utilizzare questo di programmazione no non vi metto problemi di sincronizzazione all'esame potrebbe esserci ad esempio l'uso di una slip per simulare un'esecuzione temporizzata ok non nel vostro codice ma magari nel codice di test ma non avrete la necessità di risolvere race condition o di scrivere del codice che usa degli executor service o di scrivere voi direttamente dei thread ok domanda manca la parte finale delle slide allora la parte finale probabilmente l'avevo non ne avevo parlato perché era diciamo troppo di dettaglio ok manca la parte su quale sui gli stati forse non ve lo non ve ne ho parlato perché diciamo è un'informazione in più perché se se dovete gestire i thread magari sapere quali sono gli stati è utile ma diciamo nell'uso pratico non non è utile quindi ve lo lasciate nei thread ma non non è particolarmente rilevante allora rispondo all'ultima domanda poi chiudiamo la lezione perché siamo già abbiamo già sforato esempi di programmazione concorrente primo esempio interfacce grafiche prossimo argomento quindi domani vedrete la la lezione su sulle interfacce grafiche dove ho un thread che è dedicato a ricevere tutti gli eventi dell'interfaccia grafica e a gestirli nel momento in cui io faccio un click su un pulsante e quel click mi deve far partire un'attività complessa posso utilizzare un thread per eseguire quell'attività complessa senza bloccare il thread di interfaccia grafica secondo esempio di programmazione concorrente quando voi avete un server che deve rispondere a tante richieste server web o un server che dà un servizio diciamo su internet ragionevolmente ogni richiesta verrà servita in un thread separato ok altrimenti chi fa una richiesta è bloccato perché il server deve rispondere a qualcun altro ok domande c'era tempo per fare esercizi nell'esame sì sicuramente le ultime due settimane saranno sostanzialmente scariche ok quindi adesso vediamo non ho ancora deciso se farvi un tema d'esame con calma l'ultimo o la penultima settimana ma le ultime due settimane praticamente non ci sarà quasi più nulla ok e sono state pesanti le prime settimane poi alcuni argomenti sono più pesanti però diciamo che a questo punto siamo in discesa ok perché di queste cose ne utilizzeremo un epsilon è importante che sappiate cosa sono ma non sarà un oggetto d'esame ok a questo punto direi che sospendo